E' appena terminata a Palazzo Chigi la riunione del Governo con gli amministratori del cratere del Sisma, Presidenti di Regione e Sindaci. Abbiamo il Sindaco di Leonessa, com'è andata? E' andata, devo dire, bene perché comunque abbiamo avuto, come al solito, il sostegno di parte del Commissario della ricostruzione Legnini. Questa nuova guida al Commissario alla ricostruzione ci sta dando molte soddisfazioni, devo dire, perché comunque si sente il cambio di passo, quello di cui abbiamo necessità. Abbiamo avuto buone prospettive che ci arrivano dal Governo, come il Presidente del Consiglio Conte, che ci ha anche parlato della possibilità di investire qualcosa del recovery fund proprio sui comuni del cratere, che hanno una necessità in più, non solo quella dello sviluppo economico, ma anche della ricostruzione. Quindi un sistema che dovrebbe essere organico e che speriamo nei prossimi mesi di mettere almeno nero su bianco. E quindi il Conte vi ha assicurato che una parte del recovery fund sarà spesa per i comuni e le aree colpite dal terremoto? Non ci ha assicurato, ci ha spronato a studiare insieme, a progettare insieme qualcosa che possa essere presentato poi in sede europea per il recovery fund.